La gestione di Trump sta veramente sorprendendo, ovviamente in positivo, ma lo dico per una ragione molto semplice, perché ha una linearità tra ciò che dichiarava in campagna elettorale e ciò che poi fa. Poi non piacere a noi, ma certamente lui fa l'interesse di coloro che l'hanno votato. Ma non pensa che abbia ragione Daniele Bellasio che però una posizione quella di Trump richiederebbe un'Europa invece meno intergovernativa, meno preda dei nazionalismi, delle tentazioni protezionistiche? Dipende da che punto di vista si guarda la questione. Se io la guardo da un punto di vista americano, sono un elettore americano, Trump sta facendo quello che ha detto in campagna elettorale. Ma dal punto di vista dell'elettore italiano? Dal punto di vista nostro, siamo noi che dobbiamo fare il nostro interesse, mica aspettarci che gli altri facciano il nostro. Cioè è evidente, questa è una diatriba tra noi, tra la visione che noi abbiamo dell'Europa e l'Europa, o quella che ha il governo dell'Europa. E se uno non è in grado di fare il proprio interesse e lo delega ad altri, gli altri non lo fanno, mica ti devi lamentare con gli altri. E se tu che stai mancando. Cioè Trump in questo momento ha letto una cosa fantastica, sono il Presidente degli Stati Uniti e non del mondo. Dall'altra parte in campagna elettorale dichiarava make America great again, fai ancora l'America grande. E verrebbe da dire che è espansionismo. No, il suo espansionismo è rimanere in America, appunto, fare l'americano per gli americani. che non è cosa da poco, perché è una nuova declinazione, lo vogliamo chiamare isolazionismo? No, direi di no, ma è una declinazione del fare prima l'interesse degli americani e poi quello degli altri. Il problema è che c'è un'Europa dove i francesi fanno i francesi prima che gli europei, i tereschi fanno i tereschi prima gli europei e gli italiani viene detto che prima bisogna essere europei e poi italiani. È chiaro che in una simmetria del genere si finisce spianati come un rullo compressore.